Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo un brano bellissimo dei Tiro Mancino, Noi, Casomai. Cantare in Libertà Bene ragazzi, questa canzone si compone di due accordi all'inizio nella strofa che sono Si bemolle, se questo è il Do andando indietro Si, Si bemolle, quindi Si bemolle Re Fa Forma il Si bemolle maggiore e Fa, quindi Do, Re, Mi, Fa Fa, La, Do, Fa maggiore e Fa così Sei tutto quello che non mi aspettavo Sei quello che aspettavo io dal tempo Riempi la distanza da chi non sarò mai Tra le disparte e tutti i miei vorrei Come avete visto facciamo quattro battute per ogni accordo Andando avanti c'è un ponte che porterà al ritornello dove gli accordi sono Re minore, quindi se questo è Do, Re Re Fa La forma il Re minore Poi c'è il Do maggiore che conosciamo bene Do Mi Sol Ancora Si bemolle che abbiamo visto Poi c'è il Sol minore Quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol Sol, Si bemolle, Re Forma il Sol minore E poi ancora il Do maggiore E Fa così Qua vediamo che il Re minore e il Do All'inizio fanno due battute per accordo E poi Si bemolle, Sol minore e ancora Do Quattro battute Fino ad arrivare al ritornello Che avrà questi accordi Re minore Che abbiamo già trovato Poi il La minore Quindi se questo è Do Si, La La, Do, Mi Forma il La minore Poi ancora Si bemolle Fa maggiore Accordi che già abbiamo visto E troveremo solo accordi che già abbiamo spiegato Vi faccio sentire come fa Chissà, chissà Se noi in caso vai Ci riconosceremo anche più in là E chissà, chissà Come sarà Trovarsi non è mai per caso Per questo amore Non ti farò andar via Questo è il ritornello Poi la canzone si ripete nella strofa nel ritornello E si arriva a una parte Che è uno special, in pratica Dove gli accordi sono gli stessi E la successione è questa Inizia con il Re minore Io credo che il segreto È respirare Mentre tutto va Come deve andare Troppe parole Non servono a niente Un'esplosione nel cuore Cura la mente Perché un abbraccio È come guardarsi dentro Perché pelle su pelle Io mi perdo E andare via da noi Vuol dire strapparsi Guardare i nostri pezzi Sparsi tra i passi Fa quattro battute per ogni accordo E poi ci sarà ancora il ritornello E tutto si ripete come prima Bene, anche questo era un brano Abbastanza semplice Da suonare al pianoforte Io vi lascio Come sempre in descrizione Dei link Su dove trovare il testo con gli accordi In più Link su puntate Dedicate agli accordi Presente in questo canale E la diteggiatura Per entrambe le mani Ciao Alla prossima